buonasera ben ritrovate sul mio frizzante canale sono sempre io gabriella in arte briga bijou questo l'ho sempre fatto marta ogni tanto ve lo propino perché ci vediamo stasera perché volevo farvi un video review di quello che acquistato in questi giorni da berline gioielli perché perché ultimamente ho visto che hanno rifornito il loro magazzino di gocce e io essendo un appassionata di gocce non potevo che acquistare queste nuove colorazioni o delle gocce che loro in passato non avevano consiglio berline gioielli perché sono veramente puntuali precisi cordiali io non ho mai avuto nessun tipo di problema e quindi io lo straconsiglio ora passiamo subito alle gocciolone questa è la prima coppia red luster che c'è scritto red luster però io di red last di rosso ci vedo ben poco però è un colore bellissimo particolarissimo colore sicuramente di quest'anno e io ne ho prese due gocce da due gocce e uno due coppie boic oddio disastri disastri qualcuno mi sta nominando poi mi ho preso un'altra coppia bluster blu io essere sincera ci vedo ben poco mi sembrano più un violetto chiaro un glicine di blu proprio nulla quindi se le acquistate sappiate che ecco vi mostro blu penso che si noti la differenza quasi quasi faccio una modifica all'orecchino vabbè sono andata fuori fuori tema passiamo un'altra coppia queste gocce sono belle cicciotte cicciotte grandine mi piace creare moduli piccoli con gocce grandi o viceversa per bilanciare i lavori queste sono le rose luster dal video a voi sembrano quasi bianche ma non sono non sono bianche sono so come fare del colore sono sono rosa sono rosa proprio anche se a voi sembrano bianche e chiare poi un altro colore molto bello e questo grey metal veramente particolarissimo a questa finitura satinata bello 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 mi piace molto dopo mettiamo a posto comincio a fare il solito disordine poi altro colore e questo celeste semplicemente così molto molto carine anche queste che invece hanno questa finitura satinata gessosa bellissimi estivi mi piacciono mi piacciono anche perché ultimamente sto creando tantissimo blu e celeste e poi questo classico rosso rosso infatti c'è scritto queste vengono vendute sempre in confezioni da due a coppie rosso anche questa una finitura satinata sabbiata non so come chiararle quindi queste sono tutte le gocce che ho preso poi avevo fatto anche l'ordine ne approfittato perché devo fare qualcun altro di questi orecchini che sono un progetto di cinzia grandi creazioni ora non mi ricordo il nome perdonami cinzia e quindi ho acquistato un po di soli duo soli duo lo sapete sono delle perline di cui c'è la versione destra e sinistra quindi di ogni colorazione vedrete sia destra che sinistra queste sono le classiche 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 jet poi ho acquistato per osare io non sono un amante dei metallici colori silver alluminium così forti però non lo so voglio provare questo è alluminium silver destra io sono più per i colori caldi che freddi scusate la mia voce sono rovinate ecco qui queste blu luster sempre soli duo destra e sinistra come vedete questo blu luster è un blu luster direi se vogliamo pensare che queste blu luster e queste blu luster queste sono violetto e queste invece sono un colore loro lo chiamano blu luster ma è un begiolino tendente all'azzurrino chiaro grigietto verdino tipo quelle colorazioni un po picasso molto bello devo dire la verità come colore però io non lo chiamerei blu luster poi ho preso queste color copper o chopper copper vintage copper e sono carissime queste mi piace tantissimo quello perché sono i miei colori bronzati colori della terra i colori caldi e poi ho preso queste che non ho mai acquistato sono le drop duo parpolis gold perché mi piace questa forma che hanno e le ho pensate per il su touch più che con le belle con il su touch però può darsi che riesco a fare qualche progettino non ne ho visti in giro non conosco progetti fatti con quelle poi ho preso ovviamente le arcos per per fare queste di altri colorazioni ne avevo queste blu luster ecco ritorniamo di nuovo al blu luster e le avevo finite e le ho riprese e poi ho preso queste le chili birds full labrador perché voglio farci un ciondolo ho visto un ciondolo e vorrei farlo non le ho mai provate poi eventualmente ve lo mostro poi ho preso ho preso le basi ad orecchini nottone queste così da incollo perché l'utilizzo per fare gli orecchini al lobo isa cura ne faccio una quantità industriale che sono un progetto di nicoletta barbera me ne chiedono tanti e poi la cara oddio ora faccio una brutta figura fammi prendere il foglio castellana stavo dicendo graziana mi ha omaggiato di queste monachelle che non avevo mai preso monachelle ad amo sezione piatta grazie grazie a te per l'omaggio e sono queste io adoro questi colori non potete pensare cioè per me queste sono proprio bellissime ora lo so che il video sarebbe finito perché gli acquisti che ho fatto oggi sono finiti però io volevo spendere altre tre quattro parole su questo sito voi direte perché perché volevo mostrarvi altre cose che ho preso in passato però non ho mostrato la prima cosa che io trovo che loro abbiano e siano eccezionali sono le basi per anello eccole qua io quando faccio gli anelli a sotage con queste basi che sono spesse cioè non so ecco ho preso una base così di quelle proprio economiche economiche io vi faccio vedere la sezione ecco guardate guardate scusatemi guardate la differenza cioè con queste io mi sento veramente sicura poi quindi le stra consiglio andate sul sito andatevele a vedere speriamo che non comincia a raffica una tosse bestiale poi vi consiglio i cabochons oddio ragazzo la bronchite vi consiglio e cabochon che io prendo per il su touch sono bellissimi e veramente sono perfetti me li mostro aperti oddio perdonatemi sono perfetti e bellissimi guardate questi li utilizzerò sicuramente e poi da loro compro compro anche questi io che sono questi cabochon rivoli però hanno una sezione quadrata ed io li uso per fare questi orecchini che sono fatti con le scuole crescent è un mio modulo non mi ricordo il nome molto professionale vabbè vi metto il link penso di essere l'unica che fa gli schemi non si ricorda il nome perdonatevi sarà la bronchite chi lo sa niente vi lascio si vede che un canale frizzante mi lascio quindi con i miei più grandi saluti bacione mi raccomando se fate non bene di più straconsigliato niente un bacio briga bijou mi lascio